Preghiere e attenzione per il sinodo sulla famiglia. È la richiesta del Papa nel corso dell'udienza generale in piazza San Pietro, a pochi giorni dall'inizio dell'assise dei Vescovi. Francesco ricorda il bisogno di una robusta iniezione di spirito familiare nella vita di oggi, nello stile dei rapporti, che spesso risulta formale, arido, disidratato e insopportabile. Serve rilanciare la prospettiva umana della famiglia, in essa che si introduce al bisogno dei legami di fedeltà, sincerità, fiducia, cooperazione e rispetto. In essa si mostra attenzione a chi è vulnerabile. Eppure, afferma il Papa, la famiglia non ha più il dovuto peso e sostegno, non genera più apprendimento. La società si incaglia nella burocrazia estranea e legami umani fondamentali, nel familismo amorale. È invece nello spirito familiare che la Chiesa vede la sua carta costituzionale, ma ad oggi necessita di un nuovo tipo di reti per una pesca miracolosa. Potremmo dire che oggi le famiglie sono una delle reti più importanti per la missione di Pietro e della Chiesa. Non è una rete che fa prigionieri questa. Al contrario, libera dalle acque cattive dell'abbandono e dell'indifferenza, che affogano molti esseri umani nel mare della solitudine e dell'indifferenza. Le famiglie sanno bene che cos'è la dignità di sentirsi figli e non schiavi o estrani o solo un numero di carta d'identità. Infine, l'invocazione dello Spirito Santo sui padri sinodali per fomentare lo slancio di una Chiesa che abbandona le vecchie reti e si rimette a pescare, confidando nella parola del Signore. Grazie a tutti.